Ivan Frascaroli responsabile show video production di Publitalia. Esattamente di cosa si tratta e cosa comprende questa qualifica? Allora noi come concessionaria stimoliamo il mercato proponendo la realizzazione di produzioni sia di spazi brevi che di long video. Questo al fine di creare un link molto diretto e stretto con i nostri clienti e consolidare le nostre quote di investimento con loro. Oggi ha visto la soluzione Disguide presentata qui non era da video progetti. Che cosa l'ha colpita? Direi che sulla nostra esperienza realizzativa del quotidiano potrebbe essere una buona soluzione per quanto riguarda situazioni in cui sia in allestimento di ambienti interni o esterni si potrebbe trovare una soluzione interessante sia in termini di costi che in termini diciamo organizzativi per ovviare a problemi pratici che spesso abbiamo nel caso di produzione come ad esempio il meteo. Entrando nello specifico tecnico quali sono le cose che più l'hanno entusiasmata? Direi che l'area realismo degli ambienti è sicuramente fa ben sperare. È chiaro che dovremmo vedere delle realizzazioni vere e proprie proprio per vedere come si sposa l'ambiente ricostruito con il soggetto specifico all'interno dell'ambiente. In questo caso abbiamo visto degli studi lo studio è molto particolare però sugli ambienti esterni soprattutto necessita una visione un pochino più precisa però le premesse sembrano molto interessanti. Per che tipo di realizzazioni pensa che sia più interessante questo sistema? Beh come dicevo noi abbiamo una serie di produzioni diciamo da 30 60 secondi e quindi potrebbe essere questo il nostro orizzonte di interesse oltre a prodotti relativi a microprogrammi da usare sul digital. Da On Air, Ivan Trascaroli, Pubblic Italia per digitalproduction.tv